Tutto bene, tu come stai? Puoi bene, poi Hai visto? Io sempre sopria Lo sapevo che avresti apprezzato Scusate È rosa, non me lo fanno io a te Allora, cosa dobbiamo aspettarci da questa seconda stagione di Riccanza? Dunque, tu li dovete aspettare Quest'anno vi vedete molto di più Lettra che fa cose Tipo, lettra in cucina, lettra... No, mi sono divertita molto Devo dire la vita Quindi non vedo l'ora di vederlo Perché certe cose non me le ricordo nemmeno io È stranissima Che ogni tanto dico Però, beh E come si raccontava questa lettra che fa bene? Ma molto bene È come... Non scherzo Ragazzi, in cucina sono portente Lo dico Cioè, quindi sapete già che mi ritrovete Nella Masterchef Vip Tra qualche anno No, scherzo, sono terribile No, so cucinare bene Però non è che sono... Sono mica cracco, ecco Lo stiamo partendo Che cosa ne pensi di questa new entry? Sei un po' preoccupata? O interessata? No, molto carini E comunque io sono sempre molto... Appoggio sempre i nuovi talent Quindi sono sicura che saranno cavati bene E li vediamo Vedremo Li conosco ma non così bene Da dire appunto Da dare il mio giudizio Quindi lo scoprerò Come lo scopriete voi? A poco c'è quello così Sei trovata meglio Con questi ragazzi nuovi O con quelli della scorsa Allora, quanti ne sono cambiati? No, no, sono carini tutti, sai Tutti carini Vabbè, l'anno scorso io Non ero presente Non li ho conosciuti molto Loro li ho conosciuti meglio Quindi forse mi verrebbe a dire loro Che sono tutti molto carini No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Grazie Grazie